Siamo nel backstage della realizzazione degli spot di Curtiriso. Abbiamo necessità, in un momento così difficile, in un momento così impegnativo, di ritornare a dargli quella notorietà che un marchio storico come il nostro vuole e si merita. In particolare la nostra testimonial ha l'obiettivo di mettere in evidenza tutti quei valori che il nostro marchio si porta dietro, e cioè l'italianità, la qualità e la salubrità. Ciao! 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 Ciao!